Buongiorno e ben trovati a questa edizione del nostro telegiornale che apriamo con la politica nazionale. Prima il colloquio con i presidenti di senato e camera poi i primi gruppi parlamentari così sono iniziate questa mattina le consultazioni del presidente della repubblica per la formazione del nuovo governo. Nel pomeriggio saliranno al colle i partiti di opposizione domani mattina il centrodestra unito. Giornata cruciale per la politica italiana al via le consultazioni del presidente della repubblica Sergio Mattarella in vista della formazione del nuovo governo. Il primo ad essere ricevuto è stato il presidente del senato, Ignazio Larussa, che si è intrattenuto con il capo dello Stato. Un colloquio sereno tra la prima e la seconda carica dello Stato. Al termine Larussa ha sottolineato in poche parole l'esito del dialogo. Vi ringrazio, non c'è motivo di aggiungere nulla, il colloquio è stato come sempre molto cordiale e devo dire sempre emozionante stare col presidente. Grazie e buongiorno. Alle 11 è stata la volta del neopresidente della Camera, Lorenzo Fontana, un colloquio di un quarto d'ora con Mattarella al termine del quale Fontana non ha rilasciato dichiarazioni. A mezzogiorno hanno preso il via i colloqui che riguardano i gruppi parlamentari, prima quello per le autonomie e poi il gruppo misto del senato. Nel pomeriggio gli altri gruppi all'opposizione dalle 16.30 alle 19 sarà il turno di Verdi, Sinistra, Azione Italia Viva, Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Domani mattina la maggioranza con il centrodestra che nonostante le polemiche recenti dopo le parole di Berlusconi su Ucraina e Russia, al colle salirà unito in una delegazione formata da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Moderati. Ora l'economia rispetto alle previsioni di tre mesi fa, la crescita del PIL in Priuli-Venezia-Giulia è prevista al rialzo nel 2022, ma le prospettive per la nostra economia appaiono ora meno favorevoli per il contrasto internazionale e l'inflazione. Per il prossimo anno sono attesi un brusco calo degli investimenti e una frenata dei consumi delle famiglie. Nel corso dell'anno saranno recuperate le unità di lavoro perse con la pandemia. Il buon andamento dell'economia regionale nel secondo trimestre dell'anno porta a rivedere le stime del PIL del Priuli-Venezia-Giulia. Dovrebbe aumentare del 3,2% nel 2022 rispetto al 2,7% stimato a luglio. La crescita nel 2023 è prevista essere nulla, mentre nel 2024 si stima una variazione nuovamente positiva, più 0,9%, rispetto però al più 1,7% previsto a luglio. È quanto emerge dalle analisi dell'ufficio studi di Confindustria Udine su dati Prometeia. Se è vero che la nostra regione è tornata velocemente ai livelli prepandemici, ora le prospettive economiche appaiono meno favorevoli per la crisi energetica, l'inflazione e le tensioni geopolitiche internazionali. Sul fronte degli investimenti, dopo il più 17,8% del 2021 si prospetta un più 7,9% per il 2022 grazie ai bonus edilizia e risorse del PNRR, attesa invece una frenata per il prossimo anno. I consumi delle famiglie nel 2022 mediamente mostreranno un andamento leggermente meno sostenuto rispetto al 2021, attestandosi al più 5,1%. Le esportazioni, cresciute del 10,5% nel 2022, dovrebbero rallentare bruscamente nel 2023, frenata ancora più accentuata per le importazioni che potrebbero segnare una variazione negativa dopo il più 14,7% di quest'anno. Nel 2022 si recupereranno interamente le unità di lavoro perse con la pandemia. Il tasso di disoccupazione scenderà dal 5,8% del 2021 al 5% del 2022. Il tasso di occupazione si porterà al 70,3%. Il presidente reggente di Confindustria del Friuli Venezia Giulia, Gianpietro Benedetti, prevede due scenari possibili. Il primo, con la situazione in Ucraina immutata e la conseguente precarietà sul fronte della disponibilità di gas e volatilità dei prezzi dell'energia. Il secondo, con un price cap concordato in Europa di 80 euro, che potrebbe condurre nella seconda metà del 2024 ad un mercato stabile su questi valori. Per Benedetti c'è poi un tema a Italia. Per l'enorme debito pubblico accumulato, un aumento dei tassi sarebbe poco sostenibile, soprattutto con l'aggiunta del costo per calibrare i prezzi dell'energia. Serve per questo un aiuto europeo. Per il presidente di Confindustria, consumi e disponibilità di spesa delle famiglie saranno in calo per un paio d'anni, mentre la sfida dell'industria è quella di mantenere competitività e valore aggiunto. La giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato questa mattina lo stanziamento di 64 milioni di euro a favore delle comunità del territorio. La misura più importante, fa sapere l'assessore alle finanze Barbara Zilli, riguarda la posta di 56 milioni di euro che serviranno per far slittare il pagamento del secondo acconto IRAP in sede di saldo. Quindi al 2023 una misura, commenta Zilli, voluta per equità fiscale e soprattutto in un momento drammatico quale quello che stiamo vivendo per consentire alle aziende del territorio di disporre di liquidità. Altri 10 milioni serviranno a dare ossigeno ai comuni del Friuli Venezia Giulia contro il caro energia. Nel 2023 2 milioni sono stati stanziati sul fondo di rotazione in agricoltura, 1,6 destinati al Friuli Venezia Giulia Strade, anche in questo caso per il caro Bollette. Si tratta di un pacchetto di risorse importanti, evidenzia l'assessore Barbara Zilli, che va ad affiancarsi a quanto già approvato fino ad oggi dall'esecutivo per consentire alla nostra regione di saltar fuori da questo momento difficile con fondi straordinari. Una regione connessa con una visione green grazie a quattro macro obiettivi, rafforzare l'intermodalità e la logistica integrata, favorire la connessione ai mercati nazionali e internazionali, prepararsi all'evento Gorizia Capitale Europea della Cultura 2025 e promuovendo innovazione e sostenibilità. Queste le direttrici su cui si sta articolandono le 10 priorità infrastrutturali del Friuli Venezia Giulia, secondo le Camere di Commercio della Venezia Giulia e di Pordenone, Udine, dettagliati in un libro bianco e presentate a Trieste. Presidente, un libro bianco per raccontare le difficoltà dell'infrastruttura del Friuli Venezia Giulia, com'è la situazione e cosa chiedete a questo punto alla politica? La Camere di Commercio ha sempre lavorato su infrastrutture, abbiamo fatto un grosso lavoro, le istituzioni altre hanno fatto un grosso lavoro, il libro bianco vuole essere fare il punto di tutti i lavori portati avanti e vedere quello che manca dal punto di vista di chi opera, cioè le imprese, i bisogni delle imprese, in tema di completamento di determinate infrastrutture, l'accessibilità, la velocizzazione di vari segmenti di prodotto ma soprattutto lavorare anche sulla sburocratizzazione che abbiamo in questo Paese direi molto accesa. Cos'altro chiedete alla politica, alla Regione e al Governo? La politica è che chiediamo sempre ancora nuove risorse, gestire bene i piani del PNRR in temi di infrastrutture di trasporto, logistiche portuali, darci questa priorità di velocizzazione delle pratiche e poter realizzare in tempi utili che siano ancora utili poi i progetti senza che poi diventano vecchi aspettando le carte e oggi chiederemo, questa è la politica principalmente. La cronaca a colpo grosso dei ladri in un'abitazione di Martignacco ieri sera dopo essere entrati da una porta finestra i malviventi hanno rubato ad un ottantenne oro, denaro e contante e un computer portatile per un valore di 20 mila euro. Sull'episodio indagano i carabinieri a Codroipo invece un artigiano ha denunciato il furto di attrezzi da lavoro ricoverati in un magazzino adiacente alla propria abitazione per un valore di 5 mila euro. Fermato per un controllo mentre era alla guida della sua auto in centro a Pordenone è stato trovato in possesso di oltre 4 etti di Ascis, arrestato un cittadino algerino di 50 anni. Giro di vite contro lo spazio di sostanze stupefacenti. A Pordenone in via Dante la Guardia di Finanza ha arrestato un cittadino algerino di 50 anni sequestrando gli 430 grammi di Ascis, un bilancino di precisione e denaro contante. Nell'ambito degli ordinari servizi di controllo del territorio le fiamme gialle di Pordenone hanno fermato nel centro cittadino del capoluogo la macchina condotta dal nord africano. L'uomo da subito ha mostrato evidenti segni di nervosismo. Il successivo controllo esteso anche al contenuto dell'autovettura ha permesso ai militari di rinvenire all'interno di un borsone di uno zaino di proprietà del conducente e svariati involucri contenenti Ascis. L'uomo difeso dall'avvocato Alessandro Puiatti è stato arrestato ed è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria. Stato a Trieste un passare iracheno di 30 anni accusato di aver favorito l'ingresso irregolare sul territorio nazionale di 5 connazionali. La polizia di frontiera percorrendo la statale 15 ha notato un gruppo di 5 persone che camminavano lungo il ciglio stradale ed alcuni metri più avanti un altro uomo che alla vista della pattuglia ha gettato il proprio cellulare nel canale che costeggiava la carreggiata. Nel telefono i poliziotti hanno trovato messaggi che confermavano la volontà di favorire l'ingresso irregolare di 5 persone e nei quali il passeur che è stato arrestato lamentava la mancanza di viveri e di autovetture per il trasporto dei migranti. Un incendio all'illuminazione dello stadio Enzio Berzotta ha fatto calare le tenebre sulla sfida di eccellenza che si giocava ieri sera tra la Progorizia e Zaule Rabuiese. La partita è stata sospesa al minuto 55 quando i fari si sono improvvisamente spenti e dalla centralina elettrica sono partite alcune fiammate precedute da diverse scintille. Inutile l'immediato intervento dei dirigenti della squadra biancazzurra e dei loro tecnici. L'impianto era ormai fuori uso e il problema non si poteva risolvere in tempi brevi. L'arrivo dei vigili del fuoco di fatto ha poi decretato la sospensione della gara che vedeva la Progorizia in vantaggio per 2 a 0. La Procura Generale di Trieste ha impugnato ufficialmente la sentenza di assoluzione della Corte d'Assise del 6 maggio per non imputabilità per vizio totale di mente di Aleandro Augusto Stefan Meran, l'uomo di 32 anni di origine dominicana e che il 4 ottobre 2019 uccise in questura a Trieste gli agenti Pierluigi Rotta e Matteo De Menego. Disporre una nuova perizia collegiale per accertare lo stato di mente dell'imputato al momento del fatto e all'esito dichiarato colpevole e condannarlo è la richiesta della Procura proponendo appello alla sentenza definita erronea, definendo erronea la soluzione dell'imputato. Il suggerimento della Procura è quello di incaricare una nuova perizia da fidare a un collegio composto da almeno 3 luminari in materia che validano le condizioni psicofisiche di Meran e le conclusioni raggiunte dai consulenti e i periti che hanno operato finora. La direttrice del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Udine, Eleda d'Orlando, è stata designata come membro del Comitato Scientifico Nazionale per la valutazione dell'impatto delle riforme in materia di capitale umano pubblico. L'organismo è stato istituito con decreto del Ministero della Pubblica Amministrazione. Il Comitato è stato richiesto dalla Commissione Europea per monitorare annualmente lo stato di attuazione delle riforme della pubblica amministrazione previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con particolare riguardo ai traguardi agli obiettivi stabiliti. Organo terzo, imparziale, di alta levatura scientifica, il Comitato ha concluso il primo anno di attività sui cinque previsti, redigendo un articolato rapporto. Acqua nuovamente potabile nelle frazioni di Imponzo e Cadunea. I parametri del campione d'acqua prelevato dalla fontana pubblica di Imponzo lunedì 17 ottobre sono risultati conformi rispetto a quanto stabilito dalla normativa. L'esito delle verifiche è stato comunicato dall'Azienda Sanitaria Universitaria del Pliuli Centrale al Comune di Tolmezzo. Essendo state ripristinate le condizioni di potabilità d'acqua, il Sindaco Roberto Vicentini ha revocato la precedente ordinanza che invitava alla bollitura. E siamo allo sport, fuori dalla Coppa Italia. Ieri sera il Pliuli nei sedicesimi di finale è passato il Monza per 3-2. Non è bastata la doppietta di Perez. Proprio nel momento in cui Sottil aveva messo dentro i big, la squadra di Padalino ha riaperto e vinto la partita. C'è un problema allora con questo servizio. A questo punto vi diamo appuntamento nelle prossime edizioni. Ve lo proporremo nel corso della giornata. Termina qui il nostro telegiornale. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Grazie per averci seguito. Grazie per averci seguito.